Allora, buongiorno e approfitto di questo spazio e della vostra pazienza per condividere alcune riflessioni sulla figura di Federico II e in particolare su quella commistione tra realtà e finzione che ha investito diversi aspetti della vita e della personalità dell'imperatore. Figura Federico II tra le più straordinarie discusse del Medioevo e per molti versi addirittura contraddittoria e sconcertante a partire da come potevano vederlo i suoi stessi contemporanei. Federico II è re di Sicilia, eredita il regno della madre Costanza d'Altavilla ed è anche imperatore dell'impero tedesco che eredita dal padre Enrico VI. È un re e un imperatore sicuramente cristiano, vive e viene cresciuto sotto la protezione e soprattutto in tenera età del pontefice Innocenzo III. Però se da un lato è sicuramente un re e un imperatore cristiano, sappiamo anche che in più occasioni Federico viene scomunicato e quindi è una figura sicuramente atipica. Da un lato ancora sappiamo dalle sue leggi che condanna al rogo gli eretici, ma è anche colui che scende a fatti con gli infedeli e anche colui che chiude la sua crociata non con la guerra, con lo spargimento di sangue, bensì con un patto, con un accordo diplomatico con il sultano del Cairo al Camille. Quindi qual è l'obiettivo di questo mio intervento? È quello di ripercorrere un momento particolare della sua vita, ovvero il matrimonio tra Federico II e la sua seconda moglie, Isabella di Brienne, che ereditava il titolo di regina di Gerusalemme e che portava appunto in dote al marito il regno di Gerusalemme. Riporcorreremo questa particolare vicenda, questo particolare momento della vita di Federico alla luce delle fonti, documentari e soprattutto cronachistiche, col fine però di distinguere la realtà dalla finzione, la storia dal mito, ovvero i fatti realmente accaduti da quelle che invece furono solo delle pure leggende. Come avevo anticipato, Federico II è stato uno dei personaggi più discussi della storia e non solo dai contemporanei, ma partiamo dai suoi contemporanei. Diversi furono i suoi detrattori, soprattutto quanti vicini alla posizione della chiesa, alla posizione di Roma, alla posizione dei papi, che videro in Federico un eretico, un imperatore che intratteneva relazioni appunto con gli infedeli diversi, erano gli uomini di cultura ebraica o di cultura islamica presso la sua corte. Viene visto dal clero, dalla chiesa, come persecutore nemico della chiesa stessa, quasi perfetta personificazione dell'anticristo. E ricordiamo un'immagine particolare di Gregorio IX, quando Gregorio IX scomunica Federico, in una bolla indirizzata agli alti prelati, al clero tutto, parla di Federico in questi termini. Lo definisce bestia piena di nomi blasfemi. Un'immagine che Gregorio IX recupera dal tredicesimo capitolo dell'Apocalisse di San Giovanni, ma questo per capire quale la figura di Federico agli occhi appunto dei detrattori. Ma se tra i contemporanei diversi furono i suoi detrattori, altrettanto numerosi furono i suoi estimatori. Coloro che videro subito in Federico le doti del dotto principe, il sovrano modello, il sovrano moderno, e come non individuare una sorta di una certa modernità in Federico. Federico governa il suo regno, il regno di Sicilia, con burocrati esperti, ma che sono stipendiati. Per la formazione di questo personale, diciamo, dell'amministrazione del regno, fonda la prima università statale a Napoli nel 1224. Quindi è sicuramente un uomo, una figura eccezionale, è un dottoprincipe, abbiamo detto, è un uomo curioso, curioso e aperto verso culture, saperi e lingue diverse, tanto che gli stessi contemporanei ne colsero la straordinarietà di questo personaggio e parlarono di lui in termini di stupormundi. Ma è personaggio che ha fatto parlare di sé in maniera diversa, non solo ai suoi contemporanei, nei secoli a lui successivi, ma anche in tempi a noi più vicini. Infatti, se noi facciamo riferimento a due dei principali biografi di Federico II, partendo da Ernest Kantorowicz, che scrive una straordinaria biografia di Federico II intorno alla fine degli anni 20-30 del secolo scorso, ecco Kantorowicz descrive Federico come uomo straordinario, quasi un superuomo. Beh, diversa invece la posizione, l'immagine, la figura di Federico è vista da un altro biografo più vicino cronologicamente a noi, ovvero l'inglese David Abulafia, che ridimensiona nella sua monografia, nel suo studio, la figura di Federico, la figura dello svego e ne fa un uomo del suo tempo, un uomo del medioevo, un uomo che vive nella prima metà del tredicesimo secolo, quindi con tutti i limiti dell'uomo medievale. Ma torniamo a questo rapporto tra storia e mito. Capite bene come questa figura così straordinaria abbia alimentato miti, favole e leggende diverse. Ma qual è il compito dello storico? È quello di isolare, attraverso un'attenta e critica analisi delle fonti, quello che è realtà da quello che è invenzione, ovvero le pure invenzioni, ma cercare anche di fare di più, ovvero di svelare anche il nucleo storico del mito, perché magari anche dietro una leggenda si nasconde un fondo di verità. E allora partiamo dal racconto che è oggetto di questa riflessione, il matrimonio tra l'Occidente e l'Oriente, ovvero il matrimonio tra la cristianità occidentale, ovvero tra l'imperatore Federico II e con lei che invece rappresenta la cristianità orientale, ovvero non tanto la, non voglio confondervi con la cristianità orientale, ovvero i cristiani che hanno occupato i territori, la Terra Santa e quindi con lei che detiene il titolo di regina di Gerusalemme. Ma chi era Isabella? Isabella o anche Yolanda, perché nelle fonti possiamo anche trovare il nome di Yolanda. Allora Isabella di Brienne nasce ad Acri nel 1212. Sappiamo che invece Federico è nato nel 1194, quindi mettiamo subito in evidenza una differenza di età tra i due, tra i due sposi. Quando si congiungeranno il matrimonio, Federico ha trent'anni, la giovanissima Isabella appena tredici. Isabella è figlia di Giovanni di Brienne e di Maria di Monferrato, regina di Gerusalemme, che trasmette ovviamente il titolo alla figlia. Maria di Monferrato morirà subito dopo il parto lasciando orfana appunto di madre, la giovane Isabella, e sarà il padre Giovanni di Brienne ad ereditarne il titolo. Nel momento in cui nasce Isabella, sebbene regina di Gerusalemme, la città di Gerusalemme non è però in mano cristiana. La città era già stata conquistata al tempo di Saladino dei musulmani nel 1187. Quindi è sicuramente una situazione particolare che porta e porterà la cristianità occidentale e il papa e tutto all'Occidente a impegnarsi costantemente nel tentativo di recuperare la città santa, di recuperare Gerusalemme. Quindi anche questa unione matrimoniale dobbiamo leggerla in questo senso, cioè come il tentativo di legare ancora di più la principale personalità dell'Occidente cristiano, l'imperatore, all'Oriente per aiutare, sostenere l'Oriente contro gli infedeli. Sappiamo che nell'autunno del 1222, quando Isabella aveva appena dieci anni, il padre in qualità di reggente si reca in Occidente proprio col fine di chiedere aiuto, risorse, sostegno armato per difendere i luoghi santi e per recuperare la città santa. È probabilmente in questo frangente che si inizia a intravedere l'idea di un matrimonio tra Federico II e colei che avrebbe ereditato il regno di Gerusalemme. È molto verosimile che sia stato Ermanno di Salza, gran maestro dell'Ordine Teutonico, a promuovere questo matrimonio. Chi era Ermanno di Salzo? Meglio, cos'erano gli ordini religiosi e militari? Una breve parentesi. Subito dopo la prima crociata sorgono in Oriente diversi ordini che sono religiosi e militari. Cosa vuol dire? Che chi aderisce all'Ordine è sia un monaco, e in quanto monaco obbedisce ai voti di, appunto, risponde ai voti di obbedienza, povertà e castità. Ma è anche un miles, è anche un soldato, quindi prende le armi per difendere la cristianità. Principali ordini furono l'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni, i Giovanniti o detti anche ospedalieri, i Cavalieri Teutonici e i Cavalieri Templari. I Teutonici erano, quanto tedeschi, particolarmente vicini a Federico II, quindi è alquanto verosimile che proprio in virtù di una necessità di aiuto da parte, di un maggiore coinvolgimento dell'Occidente, in questo caso dell'imperatore, in Oriente lo stesso Ermanno di Salza caldeggiasse e promuovesse questo matrimonio. Ma torniamo al nostro argomento principe, favola e realtà in relazione a questo particolare momento della vita di Federico II. Sicuramente questa commissione tra i due piani, tra quello della realtà e quello della finzione, come ho detto, ha influenzato tutti gli aspetti della vita di Federico II e anche il rapporto di Federico con l'universo femminile. Questa commissione tra vero e falso è presente sin dai lavori più datati su Federico, ma torna anche in lavori piuttosto recenti, tipo per esempio lavori del 2010-2012, dell'italiana Bianca Tranni o del tedesco Olaf Rader. Sicuramente invece improntati a maggiore rigore scientifico sono i lavori di Hubert Huben e di Fulvio delle donne. Il primo, il testo di Hubert Huben, intitolato Federico II, imperatore, uomo, mito, ecco prende in considerazione proprio la distinzione tra i due piani, quanto sia importante per uno storico riuscire a discernere ciò che è vero da ciò che è realtà, per quanto sia molto difficile in relazione ad una figura come Federico II. Sullo stesso piano si muove anche Fulvio delle donne nella sua monografia del 2012 intitolata Federico II la condanna della memoria metamorfosi di un mito. Ma vediamo a quello che è stato diciamo inventato in relazione a questo a questo matrimonio. Secondo alcune fonti cronachistiche al momento dell'arrivo della giovane Isabella a Brindisi definita nelle fonti l'asiliana proprio perché veniva dai territori orientali questa giovane fanciulla di appena tredici anni sarebbe apparsa poco attraente piccola timida scura di pelle allo stesso Federico che avrebbe così rivolto le sue attenzioni sulla cugina di Isabella una certa Anais sicuramente più grande di età insomma una giovane ventenne che però dobbiamo fare attenzione è presente solo in alcune fonti questo riferimento a questa relazione e non in quelle più attendibili. Quindi qual è la verità? Sicuramente l'invenzione di questo innamoramento invaghimento di Federico per una donna diversa da colei che invece avrebbe poi sposato è frutto di una indiscrezione malevola secondo questa indiscrezione malevola presente in alcune fonti che sono il prodotto diciamo letterario dei principali detrattori di Federico secondo la prima notte di nozze preferì Federico avrebbe preferito la giovane Anais piuttosto che la sposa. Vedremo da un confronto incrociato con quelle fonti invece ci riteniamo più attendibili perché anche fonti di natura documentaria fonti ufficiali che si tratta di una vera e propria invenzione per motivi propagandistici un'invenzione che tende a sottolineare il carattere lussurioso peccaminoso dell'imperatore e vedremo anche in alcune fonti il carattere violento tanto che si giungerà anche a descrivere un Federico pronto ad uccidere addirittura addirittura la moglie pure pure fantasie ma queste fonti che riteniamo meno attendibili non raccontano diciamo degli delle falsità solo in relazione a questi aspetti ritornano poco attendibili anche per altre indicazioni che possono dare all'estorico ad esempio uno su tutti il luogo dove si celebrò il matrimonio sappiamo da fonti ufficiali che il matrimonio tra Isabella di Brienne e Federico II si celebrò nella cattedrale di Brindisi il 9 novembre del 1225 ebbene le fonti meno attendibili riferiscono invece un altro luogo parlano della chiesa di Santa Maria del Casale di Brindisi anche questa notizia non è vera perché perché la chiesa di Santa Maria del Casale di Brindisi nel 1225 non era ancora stata eretta parliamo di un edificio voluto ed eretto successivamente in età angioina quindi sul finire del tredicesimo secolo ora secondo poi dei trattori di Federico le storie sono sono diverse si attribuisce ad esempio a Federico anche una canzone d'amore all'interno del quale ci sarebbe stato il richiamo ad un fior di Soria e tale fior di Soria sarebbe da identificare nella giovane Anais o ancora non sono mancati coloro che hanno anche parlato di una figlia biancofiore nata da questa relazione ma torniamo alla verità e torniamo ai dati storici e torniamo a quelli che sono le fonti a disposizione dello storico per tentare una ricostruzione di questo particolare momento sicuramente lo storico interroga le fonti e come abbiamo già detto esistono varie tipologie di fonti le fonti documentali le fonti ufficiali sono ovviamente le fonti più attendibili però spesso non sono numerose e quindi lo storico ricorre anche alle fonti cronachistiche alle fonti narrative isolandone quelle più attendibili da quelle meno attendibili e lo torniamo ai dati certi quei dati certi che poi lo storico andrà a ritrovare anche in queste fonti narrative in quelle ovviamente più attendibili sappiamo certamente il momento in cui Federico rimane vedovo perché il 23 giugno del 1222 muore la prima moglie di Federico Costanza d'Aragona quindi sicuramente da questo momento che si inizierà a progettare una seconda unione matrimoniale per l'imperatore Svevo sappiamo ancora che da documenti ufficiali che nel marzo del 1223 Federico si reca a Roma qui incontra Onorio III e Onorio III è il pontefice che invita costantemente e continuamente Federico a partire crociato in questo incontro Federico si impegna a partire interessante e si impegna anche a sposare Isabella. Isabella che sposa prima per procura nello stesso anno della celebrazione del matrimonio a Brindisi quindi siamo tra l'agosto e il settembre del 1225 le nozze avvengono a Dacri per procura. Subito dopo Isabella cinge la corona di regina di Gerusalemme si mette in viaggio col suo seguito attraversa il mare e raggiunge Brindisi nell'autunno del 1225 qui sposa il 9 novembre nella cattedrale di Brindisi Federico II. Abbiamo già anticipato l'indicazione della differenza di età tra i due sposi Federico a 30 anni Isabella ne ha 13 ecco probabilmente questa differenza d'età potrà aver alimentato storie e leggende anche se la differenza di età tra i due coniugi non è cosa rara nei matrimoni dinastici dell'epoca. Sappiamo ad esempio che Federico II di appena 14 anni sposa Costanza d'Aragona la sua prima moglie che ne ha 29 e 30 quindi quando si diciamo organizzavano quando si pensava a delle unioni di questo tipo l'età anagrafica degli sposi non era sicuramente importante però il fatto che i due sposi avessero un'età anagrafica così diversa può aver sicuramente alimentato tutte queste storie e allora andiamo a vedere quali fonti lo storico può prendere in considerazione. Facciamo prima di tutto una premessa. È ovvio che nel valutare l'attendibilità o meno delle fonti andremo a considerare più veritiere quelle fonti che sono vicine nel tempo e nello spazio agli eventi riferiti e ancora quelle in cui il racconto del cronista, del narratore non sembra condizionato dalla sua stessa posizione ideologica che può essere apertamente espressa o tacitamente sottintesa. Ovviamente sulla base di questi due elementi andremo a vedere e individuare una gerarchia delle fonti tra abbastanza attendibili, più o meno attendibili e sicuramente inattendibili. Allora in relazione a questo episodio proprio per evidenziare la falsità diciamo di questa invenzione, della presenza di questo personaggio e del carattere appunto peccaminoso, lussurioso e violento di Federico II, partiamo dalle croniche più attendibili e sicuramente merita attenzione quella del notaio Riccardo di San Germano che era notaio e ricoprì importanti incarichi presso la corte federiciana negli anni in cui viene celebrato il matrimonio intorno tra gli anni venti e gli anni quaranta quindi sicuramente è vicino nel tempo e nello spazio agli avvenimenti narrati. Il suo stile è anche uno stile notarile piuttosto asciutto e quindi una fonte che viene considerata abbastanza credibile all'interno della quale non appare nessun riferimento alla figura di Anais. Altrettanto si può dire per un'altra fonte ovvero per il breve cronicon De Rebus Siculis di un autore anonimo, è scritto qualche anno dopo la celebrazione del matrimonio ma l'autore dichiara di essere stato testimone diretto della crociata di Federico quindi sicuramente era a Brindisi, era vicino e quindi testimone dei fatti. E ancora attendibile un terzo testo, un testo in antico francese che è una tradizione e continuazione di una cronaca latina precedente della historia rerum in partibus trasmarinis gestarum di Guglielmo di Tiro e questa fonte è molto particolare e interessante perché elenca e descrive tutti i personaggi che facevano parte della corte di Isabella nel momento in cui sbarca Brindisi e quindi appare molto strano che tra tutti coloro che accompagnano la regina non vi sia alcun riferimento a questa cugina della regina di nome Anais. Invece passiamo alle fonti che riteniamo poco attendibili. Ecco queste fonti poco attendibili sono in realtà il prodotto letterario di uomini di chiesa, di religiosi e quindi si capisce bene che la loro posizione è una posizione che diventa sempre più apertamente ostile nei confronti di Federico II e vicino alla chiesa. Mi riferisco alla cronaca di un anonimo canonico della cattedrale di San Martino di Tours realizzata sempre intorno agli anni venti e il secolo secolo ma ripeto opera di un canonico e di una cronique francese e i cui i due tori sono due francesi che è stata redatta tra il 1230 e il 50 in Terra Santa. Ripeto in queste cronache è molto forte la posizione della chiesa e quindi l'atteggiamento di questi cronisti, il contenuto di questi racconti diventa sempre più polemico e negativo nei confronti di Federico e qui che ecco viene presentato un Federico violento nei confronti della moglie, lo vedremo violento anche nei confronti di Anais, peccaminoso, lussorioso. Ma tra le fonti che sicuramente donano da considerare inattendibili e che comunque prendono in esame sempre questo momento del matrimonio di Federico II non possiamo non indicare la cronaca del fiorentino Giovanni Villani che contiene sicuramente una cronaca da un punto di vista letterario molto importante però in relazione al racconto sulla vicenda di Federico II, sulla storia di Federico II contiene notizie palesemente false e sicuramente una fonte preziosa ripeto e soprattutto per conoscere l'immagine di Federico tramandata nel 300 di parte guelfa cioè tramandata un secolo dopo da quanti ovviamente erano filo guelfi e ovviamente anti svevi e anti ghibellini. Ora cosa raccontano le fonti che sono considerate più attendibili come quella ripeto di Riccardo di San Germano o in breve cronicon? Danno delle indicazioni certe in relazione non solo al momento del matrimonio ma anche a momenti successivi di condivisione di vita tra moglie e marito ovvero tra Isabella di Brienne e Federico II. Sappiamo ad esempio sia dalla cronaca di Riccardo di San Germano che dal breve cronicon che l'erede Corrado, futuro Corrado IV figlio di Federico II e di Isabella nacque ad Andrea il 26 aprile del 1228 come ancora da queste croniche più attendibili sappiamo che il 6 maggio dello stesso anno quindi pochi giorni dopo il parto sempre ad Andrea Isabella muore a causa di complicanze dovute al parto. È ovvio dunque che tali dati così precisi smentiscono appieno quanto riferito dalle fonti più ostili nei confronti di Federico II secondo le quali lo vedremo lo stesso avrebbe non solo percorso la moglie ma addirittura commesso un femminicidio secondo queste fonti cioè sarebbe stato causa della morte di Isabella invece Isabella sappiamo morire a seguito del parto e quindi dopo aver dato alla luce Corrado IV. Cosa raccontano ancora queste fonti poco attendibili? Non solo sono molto attente nel descrivere questo dissidio, questa discordia tra eh diciamo moglie e marito tra i due sovrani ma eh subito dopo le nozze secondo queste fonti meno attendibili Federico avrebbe preteso il regno di Gerusalemme dal suocero che invece eh avrebbe dovuto eh detenerlo vita natural durante e quindi si aggiunge un altro tassello alla eh situazione eh alla descrizione di questo momento quindi si aggiunge l'ostilità diciamo l'attrito il conflitto tra Federico e il suocero Giovanni di Brienne. Si aggiunge ancora un altro elemento di eh ostilità tra i due ovvero il fatto che un nipote di Giovanni di Brienne, Gualtieri IV, avrebbe addirittura in quanto eh erede dei conti di Lecce e quindi erede di Cancredi di Lecce avrebbe preteso il regno di Sicilia. È sicuramente proprio probabile questa rivendicazione del regno di Sicilia da parte di Gualtieri IV e sia questa eh questo va tutto quest'ultimo episodio così come il il fatto che Federico avrebbe ripudiato la moglie sembrano eh sicuramente degli espedienti eh narrativi per mettere in luce eh l'ostilità dei confronti di eh di Federico. Ora veniamo al eh alle cronache che invece mettono proprio in evidenza questo eh tratto tirannico quasi di Federico ripeto Federico lussurioso e violento ecco il primo a descrivere in maniera dettagliata questo ehm particolare momento è il canonico di San Martino. Ecco secondo questo canonico eh che poi riferisce altri diciamo eh avvenimenti altri aspetti diciamo non attendibili della sua cronaca sono ad esempio il fatto che ehm è diversa anche la data di celebrazione del matrimonio non quella effettiva del nove novembre ma secondo il canonico di San Martino il matrimonio sarebbe stato celebrato il venticinque dicembre e non solo eh ma non non a brindisi ma a barletta quindi eh si può notare come ehm anche altri elementi diciamo del racconto non rispondono a verità. Ma torniamo a questo rapporto col femminile. Quindi Federico non solo non avrebbe eh diciamo non si sarebbe congiunto alla prima notte di nozze con la moglie ma avrebbe preferito la cugina della moglie ma avrebbe per giunta secondo questo racconto incarcerato la sposa e violentato la stessa Anais. Quindi il motivo dello scontro secondo questa fonte è da trovare proprio in questa forte eh diciamo ostilità nel fatto che Federico avrebbe da lussurioso appunto preferito la eh questa giovane Anais. Oltretutto ehm esercitando violenza nei confronti di entrambe e l'episodio della violenza che è frutto proprio della propaganda antisbeva viene ancor più ampliato ancor più arricchito di particolare nella cronique francese redatta in Terra Santa. Addirittura in questa eh questa fonte appare anche eh l'immagine del demonio. Eh quindi Federico sarebbe stato rapito dallo stesso demonio anzi il demonio avrebbe spinto Federico ad odiare Isabelle a pretendere con la violenza la eh la cugina. Questo dettaglio del demonio raggiunge poi forse i livelli più alti nella cronaca di Giovanni Villani. Ecco Giovanni Villani insiste ancora una volta su Federico corrotto da vizio di lussuria e per giunta avrebbe percosso più volte la moglie, l'avrebbe rinchiusa eh in prigione e parole dello stesso Giovanni Villani tosto la fece morire. Quindi abbiamo un Federico che commette addirittura un femminicidio. Ma ripeto eh non solo soltanto queste eh questi racconti a eh a far a renderci poco attendibili eh queste e queste fonti non tornano anche altri dati. Se noi prendiamo in esame la cronaca di Giovanni Villani bene per Giovanni Villani il matrimonio tra eh Isabella De Brienne e Federico II non si sarebbe celebrato a Brindisi ma Roma e lo avrebbe addirittura celebrato Gregorio IX. Anche questa notizia non può rispondere al vero dal momento che nel du mille duecentoventicinque Gregorio IX non era ancora sceso al soglio pontificio di Verra Papa solo nel mille duecentoventisette. Per giunta il racconto della morte di Isabella del fatto che Federico sia stato causa della morte di Isabella stride del tutto con la realtà dei fatti perché questo non spiegherebbe la nascita dell'erede, la nascita di Corrado IV. Ora cos'altro è stato diciamo preso in considerazione per legare Federico non ad Isabella ma a questa diciamo fanciulla Anais? Anche una canzonetta, una canzone in volgare siciliano che per lungo tempo è stata attribuita all'imperatore, attribuita a Federico II. In realtà le liriche attribuite a Federico II sono state numerosissime. Poi ovviamente studi più diciamo mirati, critici hanno messo in evidenza che la gran parte delle liriche attribuite a Federico II in realtà altro non erano che diciamo il prodotto poetico di quegli intellettuali che frequentavano la corte siciliana quindi di quella scuola poetica siciliana. La canzonetta in questione recita in questo modo. Canzonetta gioiosa va alla fiordesoria a quella che è in pregione lo mio cuore. Ma anche questa canzone non è attribuibile a Federico ma è opera di Rugerone da Palermo quindi non può essere presa in considerazione per giustificare l'innamoramento di Federico per una donna diversa dalla moglie. Ora cosa emerge in sintesi dal confronto tra fonti diverse, dal confronto incrociato tra i dati certi che sono il prodotto che è delle fonti documentarie e i dati meno certi delle fonti cronachistiche? Che le fonti più attendibili non parlano di questa cugina di Isabella né tantomeno del dissidio tra i due coniugi. Tutta al più possiamo considerare verosimile la discordia tra Federico e il suocero Giovanni, forse all'inizio ci fu diciamo una discordia motivata dalle pretese di Federico sul regno di Gerusalemme e questa relazione con la cugina che si tinge di tutti queste sfumature e anche più fosche, anche quasi più noir, sono ovviamente il frutto di detrattori, di cronisti ostili a Federico, di cronisti che hanno voluto mettere in evidenza quasi il demonio stesso, quella incarnazione dell'anticristo. Ora, per concludere, sulla base delle fonti più attendibili il matrimonio tra Federico e Isabella è da considerare un normale matrimonio dinastico, un normale matrimonio politico, senza conflitti tra i coniugi e dal quale matrimonio nacque l'erede Corrado IV. Tornando anche alla possibilità che comunque nel seguito tra le persone che componevano il seguito di Isabella ci sia stata una cugina, ecco anche questa notizia è un falso perché in realtà Isabella aveva un solo cugino, quel Gualtieri IV figlio di Gualtieri III. Ora, è difficile per lo storico capire come siano andate esattamente le cose. Ciò che resta certo però è che sulla figura straordinaria di Federico II, così come nello specifico sul rapporto col genere femminile, quindi non solo sul rapporto che abbiamo cercato sinteticamente di evidenziare, ma anche sul rapporto con la madre, Costanza d'Altavilla, con le altre mogli, Costanza d'Aragona o Isabella d'Inghilterra, con le figlie vere o presunte, perché come abbiamo visto a Federico sono state attribuite diverse figlie, legittime o naturali, molto si è favoleggiato dai contemporanei ma anche in tutte le epoche. Quindi il motivo per cui, e chiudo citando una frase diciamo di Fulvio delle donne, del suo recente lavoro di Fulvio delle donne, motivo per cui, accanto alla figura storica di Federico, quella che va riconosciuta attraverso l'attenta lettura delle fonti, si è venuta costantemente a collocare una figura mitizzata, che ha contribuito sicuramente a confinire fascino in perituro a questo personaggio, ma che si è sedimentata così tanto da rendere spesso indistinguibili i tratti autentici, i tratti reali dell'imperatore da quelli inventati. Quindi il personaggio reale di Federico si è spesso trasformato ora nel bene quando è stato tratteggiato dai suoi estimatori, ora nel male quando invece è stato tratteggiato dai suoi detrattori, ma più che il personaggio reale a noi è spesso giunto il simbolo mitico di Federico II. Grazie. 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 Grazie.